Buongiorno Buongiorno cari e cari, oggi è la mattina del compleanno di Jody e siamo già pronti per esaudire tutti i desideri di Baby Cute. Il primo desiderio è i gonfiabili, il secondo desiderio che ha espresso è il negozio di giocattoli e ha detto mamma e papà, ma non uno normale, il più grande che c'è. Già Siri ha provveduto a controllare quale fosse. Abbiamo scoperto essere Toys di? Di Aungo la Moussa, Palermo. E poi come terzo desiderio abbiamo le acque. Le acque calde. E' amore, ti amo amore. Siamo arrivati ai gonfiabili. Come sono stati i gonfiabili? Ti sei divertita? 41 gradi. Andiamo alla scelta del regalo. Andiamo andando al bacco. Baby Cute si è addormentata. Sì, dove siamo andati? Per messaggio stare. Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Tanti auguri, 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 t Grazie a tutti.